Grande Fratello, primo scoop, liti e baci oscurati dalle telecamere Ledizione 2018 del Grande Fratello ha, ormai, riaperto i battenti da una settimana. Dopo un periodo di pausa, durante la quale è stata trasmessa per due anni la variante VIP del reality show più famoso e seguito di sempre, la versione originale del GF è tornato su Canale 5. Il ritorno del reality è stato sancito anche dall'acclamatissimo ritorno di una delle madrine di questo format televisivo, ovvero Barbara Durso. Il GF riapre i battenti, nasce il primo flerto oscurato. Nella prima puntata, trasmessa lo scorso lunedì 16 aprile, la conduttrice ha provveduto alla presentazione di tutti i concorrenti. Tra questi si sono distinti individui alquanto eccentrici e fuori dagli schemi, che già stanno iniziando a destare scalpore e far parlare di sé. L'argomento che sta suscitando maggiore sgomento riguarda la nascita di un ipotetico flirt tra due concorrenti. Stiamo parlando di Filippo Contri e Lucia Orlando. Stiamo parlando di una delle notti precedenti, il ragazzo si è catapultato nel letto della ragazza e pare che tra i due ci siano state delle coccole seguite da un bacio. La situazione, tuttavia, non è molto chiara dal momento che, contrariamente alle precedenti edizioni, la fascia notturna viene oscurata. Nelle ore che vanno dalle due di notte alle sette del mattino, infatti, le luci, così come le telecamere, vengono spente determinando, pertanto, l'impossibilità a tenere sotto controllo 24 ore su 24 l'attività dei concorrenti. In quelle ore della notte, quindi, potrebbe essere accaduta qualsiasi cosa. Ecco la prima lite per una fetta di pane. Il motivo di questa decisione non è al momento pervenuto. Ma questo non è l'unico avvenimento degno di nota. A distanza di pochissimi giorni dall'inizio del reality, infatti, hanno iniziato a farsi spazio anche i primi malumori e dissapori tra concorrenti. La prima lite ufficiale è avvenuta tra Patrizia Bonetti e Bai e da Amedia. I due protagonisti hanno avuto un'accesa discussione. La ragazza bolognese pare stesse giocando con una fetta di pane quando il romano senegalese l'ha attaccata. Il ragazzo ha, infatti, voluto riprendere il comportamento della concorrente in quanto ha reputato inopportuno giocare con il cibo quando ci sono bambini nel mondo che non possono mangiare. Insomma, i primi scoop e le prime liti iniziano a definirsi, nel frattempo siamo in attesa della prossima messa in onda di domani, lunedì 23 aprile, in cui potremmo assistere a nuovi e succulenti gossip. Cancelletto Gossip Cancelletto Barbara D'Urso Cancelletto Barbara D'Urso